Ciao a tutti, come ammagliare un uomo? Stuzzicalo e non dargliela. In questo video voglio spiegarti come ammagliare un uomo. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarmasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate video registrazione e seminario del vivo, abbonamento a un master consulting con in più una consulenza telefonica. Ma veniamo ora al tema, come ammagliare un uomo? Stuzzicalo e non dargliela. Allora se tu vuoi ammagliare, cioè acquisire rapidamente potenziale, acquisire rapidamente potenziale di coinvolgimento, devi stuzzicarlo, stuzzicarlo dolcemente, andare a stimolarlo, andando a fare scarpetta, andando ad amplificare quelli che sono i suoi turbamenti, quelli che sono le sue emozioni compresse, prendendolo anche un po' in giro, giocando un attimino, anche quando avviene poi il contatto fisico. Ma deve essere un contatto fisico che lo porta all'eccitazione, ma che non lo porta alla conclusione. Perché tieni presente che fin tanto che devi concludere, sicuramente sarà interessato a te, sicuramente ne metterà energia. Perché lo spirito è quello. Una volta che, diciamo, ha concluso, se tu non hai acquisito potenziale e lui non ha fatto degli investimenti, se ne andrà, sicuramente. E come dire, quando tu vai a fare la spesa, hai il carrello pieno di mercanzia, non è che resti al supermercato. Dal supermercato te ne vai, hai fatto la spesa, hai pagato, te ne sei andato. Sei servito e non te ne frega più niente di tornare al supermercato. Quando è che ritornerai? Quando dovrai fare nuovamente la spesa. E così farà il maschio. Se tu, come dire, gli concederai di fare, tra virgolette, la spesa, lui farà la spesa. Una volta che avrà fatto il pieno, beh, in questo caso una volta che avrà fatto il vuoto, diciamo così, avrà svuotato tutte le riserve, beh, se ne andrà. È esattamente un po' il contrario, no? Del supermercato, metaforicamente, nel senso che il supermercato, quando il carrello è vuoto, vai a riempirlo. E invece qua, quando il carrello è pieno, vai a svuotarlo. Ma, diciamo, mutatis mutandis, se è vero il verso, è vero anche l'inverso, le cose non cambiano. Per cui, devi fargli fare un investimento. Un investimento è come se uno avesse comprato delle azioni del supermercato. Se tu hai comprato delle azioni del supermercato, beh, non è che una volta che tu hai fatto la spesa, intanto andrai sempre a fare la spesa lì, perché sarà un tuo vantaggio fare la spesa lì. Ma poi, non è che te ne andrai tranquillamente una volta che hai fatto la spesa, proprio perché tu in quel supermercato lì, su quel supermercato lì, ci hai investito. Hai investito delle risorse importanti per te. Quindi, beh, lo curerai, te ne prenderai cura, controllerai che tutto sia in ordine, non lascerai che il supermercato venga trattato male, per te diventerà un qualcosa di importante. E, allo stesso modo, è la stessa differenza che c'è tra un semplice cliente del supermercato e un azionista del supermercato. Se tu vuoi che un uomo resti con te, devi farlo diventare, tra virgolette, un tuo azionista. Perché se è soltanto uno che viene a fare la spesa, beh, non ha nessun interesse a fermarsi. Anzi, ogni volta che avrà bisogno, verrà, ripeto, al contrario del supermercato, verrà per svuotarsi, non per riempirsi. Ma, comunque, le cose saranno uguali. Quindi, certo, una frequenza periodica magari la trovi, ma nulla più. Se invece tu riuscirai a coinvolgere a livello profondo un uomo, coinvolgere a livello profondo vuol dire saperlo stimolare nei punti giusti, saperlo stimolare nei mondi giusti, quindi andando ad amplificare i suoi desideri e poi negandogli il possesso, fin tanto che non diventerà un investitore, non diventerà un socio di te, diciamo, del tuo supermercato. Diventare un socio cosa vuol dire? Beh, diventare un socio vuol dire che ti avrà presentato ai suoi amici, ti avrà presentato ai suoi genitori, avrà fatto un investimento magari economico per prendere una casa dove potreste andare a vivere assieme. Insomma, avrà fatto tante cose che a quel punto lì non potranno più tornare indietro. Il che vuol dire che una volta che saranno fatte tutte le cose, avrà fatto tutti gli investimenti, non vorrà più andarsene. Anzi, passerà giorno e notte al supermercato proprio per tutelare il suo investimento. E tu a un certo punto dovrai addirittura allontanarlo, dovrai addirittura mandarlo via perché altrimenti rischierai che diventi troppo possessivo di questo supermercato. Quindi devi sapere gestire molto bene queste situazioni, ma la cosa fondamentale è che non ti lasci, diciamo, andare ad emozioni se non avrà fatto veramente prima un investimento. Prima deve fare un investimento e dopo avere la gratificazione. D'altra parte questo è quello che insegnano anche, come dire, che addestra gli animali. Non è che dà lo zuccherino prima, chi addestra i cavalli, lo zuccherino al cavallo, glielo dà dopo che ha saltato l'ostacolo. Non glielo dà prima, perché se gli desse lo zuccherino prima il cavallo, col cavolo che gli salta gli ostacoli. E così è nella vita della seduzione di un uomo. Se tu gli dai lo zuccherino prima, col cavolo che lui si impegna a sposarti, a fare, ad avere una relazione, non lo farà mai. Ma non perché sia cattivo e sia uno stronzo come magari tu poi puoi pensare, perché poi è facile etichettare, ah, quello è uno stronzo. Non è che è uno stronzo, quello reagisce a un comportamento tuo e a seconda del tipo di comportamento che tu utilizzi otterrà una certa reazione. Quindi le persone reagiscono ai comportamenti, non reagiscono alle persone in sé. Se trovi una persona che da te si allontana, che ti tratta male, perché probabilmente metti in atto dei comportamenti sbagliati. Poi per carità può succedere, un errore di valutazione può succedere, ma il problema è quando sono tutti errori di valutazione e non c'è mai una buona. Allora le cose devono prendere un'altra piega, insomma. Quindi cerca di lavorare da questo punto di vista sulla tua autostima, sul tuo controllo e renditi conto che soltanto facendogli fare degli investimenti, e questi investimenti li farei fare negandogli un po' il possesso, ma dandogli degli stimoli, stuzzicandolo, giocando, capendo quali sono i suoi feticismi, capendo quali sono le sue fantasie, capendo quali sono i turbamenti non risolti e amplificandogli. E questo faranno sì che lo spingeranno sempre di più verso di te, ma soprattutto lo spingeranno a investire per avere un coinvolgimento maggiore. E questo lo porterà a innamorarsi, lo porterà a coinvolgersi. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base, con lezioni mirate, abbonamento top, con lezioni mirate e videoregistrazioni e seminari dal vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!